caro k perché il pubblico dovrebbe salvarti allora il pubblico dovrebbe salvarmi perché se vuole un po di spettacolo e ritornare indietro negli anni migliori della musica fare un viaggio retro dovrebbe votarmi e viaggiare con me se vi ha convinto mettete mi piace e condividete grazie k ciao a tutti raga se vuoi ripescare questo talento clicca ora mi piace al posto originale del video oppure condividilo grazie